Bitcoin ancora stenta a recuperare il crescione che ha avuto la scorsa settimana e questo è anche abbastanza normale ragazzi perché sostanzialmente la giornata del 17 agosto con un meno 7, meno 8 a seconda dell'exchange che state andando a guardare è stata estremamente importante soprattutto ha creato una trend diverso dal precedente si è rimangiato a tutto il rialzo che era avvenuto nella zona della metà di giugno e quindi stenta a recuperare questo livello perché sostanzialmente che le medie sono veramente lontanissime bisogna che le medie si avvicinino un po' al prezzo e poi soprattutto che Bitcoin stesso diciamo inizi una nuova fase di recupero dopo questa barra di congestione che per esempio state vedendo che vi faccio vedere qui su un time frame più breve anche volendo però questo eventuale fase di recupero in questo contesto preciso in queste settimane mi fiderei poco mi fiderei poco per una serie di motivi che vi dicevo allora facciamo un video che parla un po' di unire i puntini cioè mettere tutte quelle che sono le cose che ci siamo detti in queste settimane insieme partendo dai concetti di base che vi avevo detto la tentativo di fare nuovi massimi aveva i giorni contati il tempo contato che cosa è successo dopo e soprattutto come stanno reggendo anche alcune criptovalute in particolare modo mi premeva farvi vedere quelle che sono i gli altri grafici che non vediamo da un po' cioè il grafico di rapporto tra Ethereum e Bitcoin un grafico importantissimo perché ha gli sgoccioli di un ciclo importante cioè quello del quadriennale dell'Halbing e poi il grafico della Dominance che è iniziato la sua fase correttiva anche su Bitcoin la vediamo insieme c'è il discorso di fare una puntualizzazione da fare sulla Dominance molto importante e vediamo anche un accenno al grafico di Matic e di BNB per capire anche come sono messe a livello ciclico quelle due criptovalute se siete pronti io andrei subito al dunque ma prima di andare avanti vi faccio vedere una cosa che questa volta è piga e ci sta cioè coin call ragazzi l'exchange di cui abbiamo parlato un mesetto due mesetti fa che era in lancio è partito sta facendo le sue prime operazioni hanno aumentato incrementato la liquidità il next change devo dire la verità ha funzionato anche troppo bene per essere un lancio perché di solito nella parte dei lanci un po' crashano di continuo però questo a dire la verità è andato abbastanza bene soprattutto qui c'è una promo che ci hanno lasciato per tutta la nostra community bonus di benvenuto esclusivo fino a 60 dollari questa volta non è in opzioni non è in altri modi cioè vi danno 60 dollari come è abbastanza semplice iscriversi attraverso il link che vi lascio in descrizione link di trading on ragazzi perché è una promo o esclusiva esclusiva per la nostra community ma vale anche per tutti quelli che già si sono registrati alla precedente promo ragazzi quindi è una bonus che fanno sulla trading cioè vi chiedono di tradare di fare qualche operazione di trading e vi danno questo bonus per farlo quindi iscrivervi al link che vi lascio in descrizione poi deposito di almeno 100 dollari ricevete 5 USDT volume di trading 1000 dollari ricevete altri 5 USDT volume di trading superiore o uguale a 10.000 dollari ricevete 50 USDT se completate tutti questi step in totale 60 USDT attenzione perché scade il 31 di agosto non c'è che guai sì quindi questa volta l'ho richiesto perché poi la volta scorsa e che vuoi sì non c'era per la registrazione ma c'era per avere la promo io ho detto ma c'è o non c'è sto che vuoi sì no perché poi a volte ragazzi come parlate i cinesi come bisogna stare a capirsi vabbè allora questo caso il che vuoi sì non c'è ragazzi né per il trading né per usufruire della promo potete usufruire della promo anche se siete già stati registrati con la nostra precedente promo quella sempre di coin call di trading on e basta solo fare il trading entro 7 giorni vi mandano l'accredito 60 dollari secondo me questa volta è molto valida questa promo perché anche se fare 10.000 dollari di trading di volume costa tra i 6 ai 15 dollari quindi sostanzialmente anche entrare e uscire proprio velocissimo insomma si guadagna sempre poi un minimo di trading fatelo ragazzi no e questo ci sta insomma quindi è una promo vi lascio in descrizione utilizzatela secondo me questa è figa e quando regalano soldi ancora in fase di test no questa exchange quindi giustamente fa queste cose allora andiamo a vedere intanto la questione dell'excursus di bitcoin di quello che è successo in questa fase ci aspettavamo quello che era un'eventuale possibile fase di nuovo up da questa zona bitcoin fallisce il tentativo di superare di riavvicinarsi in questa zona tra l'altro un atteggiamento che fa sempre di continuo era lo stesso precedente che aveva fatto anche in altri ambiti anche su altri massimi ragazzi cioè quando in pratica in questo caso guardate vi faccio vedere la struttura è una struttura che bitcoin fa veramente molto spesso ed è molto comune nei mercati delle cripto cioè una specie di doppio massimo in questo caso superiore che poi sfocia però in un tentativo da qui in poi perché qui è stato il tentativo di mancato recupero dei massimi come è avvenuto anche in questa fase un mancato recupero dei massimi da questa zona in poi e in questo caso più pronunciato anche di quello che abbiamo visto e poi crash stessa cosa identica qui massimo massimo nuovo anche di basso tentato recupero fallito ma in cui c'era già anche il trend più principale che era avvenuto meno di nuovo crash istantaneo qui in questo caso nuova struttura identica anche in questa questione qui ragazzi allora guardate uno qui uno qua in questa zona bam tentato recupero fallito di nuovo crash allora questo è abbastanza comune per quanto riguarda i mercati imperfetti tra virgolette cioè quelli che sono riflessivi che non hanno una grande liquidità che non sono imperstabili come i mercati delle cripto questo è per me un plus non è un minus ragazzi perché significa che si possono fare tanti soldi per cui no col trading e le speculazioni però sostanzialmente bitcoin ha fatto questa ha fatto diciamo questa fase ora la possibilità di fare nuovi massimi si è effettivamente molto molto ridotta almeno in questa struttura ciclica io aspetterei un po' perché ragazzi qual è la questione allora qui bitcoin come vi dicevo la volta scorsa può ricominciare un nuovo trend importante solo quando andrà a chiudere un nuovo ciclo trimestrale ciclo trimestrale che su questo minimo o quello precedente quello successivo in questa zona è un po' corto ve lo dico quindi allora è possibile che abbia chiuso un nuovo ciclo trimestrale in questa zona 69 giorni è un po' corto e quindi può iniziare un nuovo trend attenzione che nuovo trend non vuol dire che va per nuovi massimi ma nuovo trend nel senso che può recuperare un po' arrivare a 27 28 mila 27 mila e 5 può fare una cosa del genere ora una roba del genere la può iniziare a fare se è iniziato un nuovo trimestrale altrimenti la soluzione più comune in questo caso è quello che si è iniziato in questa struttura un nuovo ciclo mensile ciclo mensile che quindi ha insito quello che state vedendo cioè una fase di mini rimbalzo che dovrebbe concludersi tra 3-4 giorni e poi ricominciare una nuova fase discendente quindi in questa zona per quanto mi riguarda non c'è operatività primo sono ancora teoricamente in ferie come vi dicevo e io non opero però questo volevo volevo specificarvi questa cosa perché potrebbe avvenire già entro il weekend questa struttura quindi fate molta attenzione questa è la classica barra di congestione dopo un crash per assorbire il crash e poi continuarlo teoricamente fino a quando fino alla metà di settembre metà di settembre che è una data stra importante anche per altri grafici infatti io in questo momento sono alla finestra quello che farò è questo ve lo dico perché poi non so se riusciamo a farlo insomma ma anche dal vivo aspetto questa settimana nella prossima settimana se il mercato dovesse iniziare un trend long io lo traderò long ma da trader quindi non posizione di lungo quindi con stop loss inseriti tra i link stop immediatamente inseriti e le solite strategie che utilizziamo in academy già e preimpostate quindi non farò il loader in questa fase e credo per un po' ragazzi cioè lo faccio solo con i sistemi di trading eccetera quindi non mi metto lì ad accumulare in questa fase lo farò più in là tanto io comunque gestisco le posizioni a livello di trading quindi quello che significa è che se vanno bene le lascio poi aperte se vanno male le chiudo in trade stop, in profit oppure in stop loss quindi in un modo o nell'altro non sto alle bizze del mercato questo vi sto dicendo perché è una situazione estremamente delicata e può essere che il mercato abbia fatto i massimi proprio del 2023 andiamo a vedere anche un grafico di Ethereum o Bitcoin che vi avevo promesso è un grafico molto importante perché vi spiega anche sostanzialmente che in questa zona in pratica c'è la struttura della chiusura di questo ciclo quadrennale come vi stavo spiegando ora che cosa è successo su questo grafico? dal minimo della zona 29 di giugno il grafico di Ethereum-Bitcoin ha iniziato una fase di reazione ballaterale ora qui come vedete la forza relativa di Ethereum contro Bitcoin è in trend ampiamente discendente anche se non importantissimo da un anno quindi da un anno sostanzialmente detenere Ethereum al posto di Bitcoin è sbagliato cioè teoricamente avete perso forza relativa era meglio avere Bitcoin in portafoglio rispetto ad Ethereum un anno non è un lasso di tempo estremamente importante cioè non è lunghissimo ma non è neanche breve ragazzi quindi comunque in quest'anno detenere Ethereum non è stata una cosa positiva tra le altre cose la struttura di forza relativa è stata a un meno 30 quindi sostanzialmente al minus di Bitcoin se lo avevate avuto ma ovviamente da settembre Bitcoin è salito quindi non è sceso però a quel livello lì dovete poi segnare un meno 30 di forza relativa se avete avuto Ethereum al posto di Bitcoin quindi Bitcoin molto meglio di Ethereum per quest'anno almeno finora c'è da dire che questa fase ciclica in chiusura che è rilevante vi faccio anche comprendere un'altra cosa guardate che similitudine di atteggiamento questa struttura fatta in questo modo con quello che Bitcoin sta disegnando da un po' con le sue strutture fatte così guardate uno boom, uno boom ok queste strutture classiche cioè app veloce, distribuzione lenta sono molto comuni nelle crypto qui è durato veramente tantissimo siamo da giugno 2022 qui siamo quindi da un anno che dura questa struttura ora la struttura in questione non è stata minimamente incrinata quindi il trend contro Bitcoin di Ethereum o contro Bitcoin resta assolutamente ribassista nel breve medio periodo ma è laterale nel lungo periodo perché nel lungo periodo dalla margio 2021 sostanzialmente è laterale chiuso in una barra di congestione tra 0.05 e 0.08 questo cambio ora la questione ciclica che secondo me è interessante di andare a vedere poi passiamo subito a vedere Binance e Matic ragazzi la questione ciclica è interessante da qui è iniziato sicuramente un nuovo ciclo trimestrale che teoricamente porta la sua naturale conclusione intorno alla metà di settembre metà di settembre barra metà di ottobre cioè questa zona qui dove in teoria ragazzi andiamo ad avere il calcolo finale di tutta questa struttura e quindi la chiusura del terzo ciclo che è dai minimi del 2019 di questo cambio cioè con il ciclo teoricamente quadriennale quello dell'Albing che riguarda anche i rapporti di cambio Ethereum-Bitcoin guardatelo qui 1-2 1-2 il secondo ciclo 1-2 il terzo ciclo cioè siamo in fase di chiusura di questo ciclo quest'area che già temporalmente ci siamo da qui in poi potrebbe essere un'area di snodo dove le criptovalute potrebbero effettivamente iniziare a recuperare rispetto a Bitcoin in forza relativa ci siamo quasi io agosto ancora sono in ferie come vi dicevo ma da settembre in poi inizio a guardare queste cose quindi da settembre in poi magari la idea di provare a mettere in saccoccia magari qualcosa di Ethereum sui rimbalzi eccetera sempre a favore di trend non si crascia rispetto a Bitcoin allora ci può stare ragazzi soprattutto anche perché non è solo questo grafico che ci dà questa informazione ma anche la dominance dominance che deve andare a chiudere il suo ciclo annuale e che guardate un po' dopo quelle che ce l'avevamo detti anche nell'ultimo grafico ha fatto il massimo nella sua struttura qui siamo nella parte short che vi avevo indicato nei quadranti ciclici i ciclici quando ho fatto quella lezione per farvi capire più o meno come ragionare a livello ciclico ve la posto sulla mia testa se non l'avete vista andatela a vedere ragazzi allora in questa struttura sui quadranti ciclici questa zona qui era la zona short quindi la zona dove era possibile iniziare la fase di chiusura di questa struttura Bitcoin ha fatto il suo massimo in questa parte da manuale ha invertito il trend in questo caso è un trend invertito della dominance non solo perché ha breccato le medie mobili ma anche questa trend line che univa queste strutture che è una trend line non importantissima ma comunque è una trend line rilevante questa trend line non ha retto è stata invertita in sostanza Bitcoin ha invertito il trend della dominance contro le altcoin quindi è probabile che questa zona continui a scendere per chiudere questo ciclo ciclo che però si chiude a novembre-dicembre almeno in teoria potrebbe allungare poi da novembre a dicembre vi faccio capire fino a dove può arrivare teoricamente anche di più o meno a gennaio quindi in questa zona qua allora tutto questo arco qui può configurare una zona di minimo della dominance ciò significa che è un po' ancora vedete le altcoin potrebbero essere più performanti di Bitcoin ma quali sono queste altcoin che potrebbero essere più performanti di Bitcoin ragazzi che impattano su questo grafico le stablecoin ovviamente perché sono inserite le stablecoin ma sono soprattutto Ethereum, BNB e Matic ma Ethereum in particolar modo perché impatta del 13-18% non mi ricordo 13-14% insomma intorno a quella percentuale dovrei andare a controllare ma adesso non ve lo ricordo a memoria questo significa quindi a questo punto ragazzi che la questione nei prossimi mesi potrebbe essere una fase di minimo in questa struttura temporale e poi un recupero anche delle altcoin non solo di Bitcoin e quindi una nuova fase tecnica quindi in sostanza se uniamo un po' i puntini come vi dicevo questa fase di ribasso ci sta è nell'area corretta e può continuare tranquillamente anche fino a novembre da lì in poi però il mercato potrebbe decidere di riprendere un po' il nocciolo della situazione e tentare una fase di recupero ora se la fase di recupero dovesse continuare scusate non novembre ottobre e dovesse continuare e dovrebbe avvenire appunto fino a novembre massimo dicembre perché poi lì andiamo in chiusura dell'annuale ma poi quello lo vediamo però sostanzialmente la dominance ci indica anche quest'altra alternativa cioè debolezza ora metà settembre ottobre e poi un leggero recupero prima della chiusura del ciclo annuale leggero recupero che se farà noi massimo o meno non lo sappiamo ma è possibile anche che le altcoin performino meglio quindi a quel punto potrebbe esserci una piccola chance di una mini alt season minuscola ma chiamiamo alt season insomma fuori luogo però generalmente si potrebbe avere un po' di recupero che a livello di trading potrebbe essere interessante sulle cripto più piccole quindi ragazzi mi raccomando è che i prossimi mesi potrebbero essere interessanti a questa cosa se avviene dobbiamo essere pronti se poi non avviene noi ci abbiamo provato però se avviene noi magari siamo preparati a questa cosa andiamo a vedere invece le altre le altre cripto che sono che sono Binance come vi dicevo e Matic ok iniziamo da Matic per quanto riguarda subito la struttura dei cicli quella più importante Matic potrebbe essere arrivata alla chiusura del ciclo annuale ancora non è detta l'ultima parola qui in questa fase vi avevo detto è possibile che abbia troncato un ciclo annuale più corto in realtà non è stato così però anche questo ciclo non è stato male anche se l'avete trovato Long perché Long ha avuto un suo escursus poi qui c'è lo stop classico insomma vedete che si inverte il trend ancora una volta non so se notate la perfezione di questa figura classica delle cripto di pump and dump leggero qui siamo andati al di sotto del minimo precedente siamo a 433 giorni di ciclo annuale per quanto riguarda Matic siamo nella possibilità che Matic stia andando a chiudere il ciclo annuale ha chiuso qui in questo minimo per avere conferma di questi movimenti bisogna attendere un po' ma il ciclo annuale di Matic è interessante va tradato Longa anche questa criptovaluta è una criptovaluta da mettere nel mirino per i prossimi mesi perché una volta che il mercato avrà concluso questa fase se inverte il trend Matic che non a buy the dip ma se inverte il trend può essere tradata Longa per la ripresa di un eventuale ciclo annuale e questo potrebbe essere interessante quindi ripeto ragazzi sempre a favore di trend non comprando i ribassi come in questo caso però questa area è sufficiente per andare a chiudere un ciclo annuale e va secondo me presa in considerazione questa ipotesi su Matic vi faccio vedere anche per BNB perché perché su BNB la struttura è la stessa identica di Matic e quindi volevo andare a farvi vedere questa cosa per darvi la conferma che sia BNB sia Matic sono nella stessa identica situazione perché qui ragazzi abbiamo in teoria ci avviciniamo vedete ai 450 giorni qui siamo a 430 un po' prematuro come vi stavo dicendo però verso la fine di settembre la metà di settembre questa zona potrebbe essere conclusa quindi anche Matic verso la zona della metà di settembre quindi tra qualche giorno questa chiusura può avvenire in questo modo attenzione a fasi di recupero proprio in questa zona qui abbiamo visto che la dominance ci può indicare che Bitcoin potrebbe soffrire in termini di forza relativa rispetto alle crypto queste due crypto BNB e Matic sono nel mio mirino insieme ad Ethereum la vediamo nel prossimo video non vado in buy the dip però se dovessero invertire il trend non male la chance di salire su questa crypto perché potrebbero iniziare un nuovo ciclo annuale il ciclo annuale è interessante perché è un ciclo comunque che ha un escursus in termini di volatilità adeguata per farci fare una serie di profitti vi faccio vedere l'ultimo ciclo annuale di BNB ha fatto il 79-80% quello di Matic molto di più perché Matic ha avuto un ciclo annuale molto più pronunciato rispetto a quello di BNB ed ha fatto addirittura il 340% ora anche se non dovessero essere gli stessi i livelli di escursus nulla vieta a queste crypto di far bene in una partenza ciclo annuale un 50-60% e non è assolutamente male per i trader non è assolutamente male in questa fase quindi mi interessano queste qui le metterò nel mio mirino se facciamo operazioni long poi io comunque nei video ne parlo ovviamente in academy in tempo reale ma nei video ne parlo comunque ve lo spiego se abbiamo fatto qualcosa va bene ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi soprattutto su BNB e Matic e anche su ETH cosa ve ne sembra i ciclisti che siete all'interno della mia community fate i commenti ciclici anche così ci confrontiamo noi ci riveniamo nel prossimo video ciao a tutti